Prima di iniziare a guardare il video vi ricordo se non lo siete già di iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche, lasciare un like e leggere sempre la descrizione del video. Benvenuti tutti ragazzi in questo nuovo video. Oggi affronteremo le stringhe, introdurremo nuove librerie con comandi utili alla loro gestione e concluderemo alcuni aspetti lasciati aperti nei video precedenti. In C non esiste, come in altri linguaggi, un tipo di dato per le stringhe. L'unico modo con il quale ci si può lavorare è usare i vettori di caratteri, quindi una serie di caratteri che insieme compongono la stringa. Creiamo nel main un vettore di tipo carattere con dimensione 20, dunque sapete che il vettore ha allocato la memoria nello stack ben 20 byte e con uno scanf ci ha consentito l'inserimento di una sola parola, perciò non potete inserire più parole. Quello lo vedremo più avanti. La specifica di conversione è %s e come argomento si inserisce il nome della stringa senza l'uso della e commerciale, perché viene trattato come un puntatore dalla funzione. Subito dopo la si visualizza in output con printf e %s. Ma come fa a sapere quanti caratteri stampare? Ebbene, la funzione scanf inserisce a fine stringa, una volta premuto invio dalla tastiera, il carattere terminatore backslash 0, che segnala al computer una serie di zeri e che effettivamente la stringa è conclusa. Possiamo analizzare meglio questo discorso guardando carattere per carattere attraverso un for con l'indice i che parte da 0, ossia la prima cella del vettore, e ogni ciclo si incrementa di più 1. Per la condizione del for valutiamo due cose. La prima è provare a mettere i minore di 20, così da osservare tutte le celle del vettore. Il risultato è strano, perché le celle successive alla stringa contengono caratteri casuali, e cioè dovuto al fatto che c inizializza con un valore casuale ogni cella quando si dichiara il vettore e non lo si inizializza con qualcosa. Ecco che il carattere backslash 0 serve a non farci stampare quello che c'è dopo, pertanto la condizione più appropriata è che il carattere in posizione i sia diverso da backslash 0. In questo modo riusciamo a visualizzare correttamente il contenuto carattere per carattere e comprendere l'utilità del carattere terminatore a fine stringa. Però attenti a un piccolo intoppo. Poniamo il caso di avere un vettore di tre spazi e inserire una parola che superi quella dimensione. Su Windows il compilatore cerca di aiutarci a proseguire, quindi noi mettiamo una parola più lunga e salva in memoria tutta la stringa. Infatti se la visualizziamo subito dopo lo scanf, i dati in stack ci sono ancora e vediamo la nostra parola. Tuttavia se ci mettessimo a compiere qualche altra istruzione e poi provassimo a visualizzare la stringa, come vedete viene troncata. Il programma diciamo che va, ma non è scritto nella maniera migliore. Su Linux, infatti, compilando tramite linea di comando lo stesso programma, l'overflow che si causa fa interrompere nell'immediato il programma, dando errore di stack smashing detected, il che non è piacevole. Allora la soluzione è quella di specificare la larghezza di campo, concetto già trattato nella lezione relativa all'input. Di conseguenza tra la percentuale e la S si specifica la dimensione massima meno 1. In questo modo lo scanf preserverà sempre almeno uno spazio per il carattere terminatore e non memorizzerà caratteri oltre la dimensione dedicata. Entrate nell'ordine delle idee che la memoria è sacra, quindi non la si può sprecare o gestire malamente. Ed ecco che arriviamo a vedere come ricevere in input una stringa composta da più parole, separate da uno spazio. In alcune scuole o da qualche parte su internet si vede l'utilizzo della funzione gets, ma non usatela, perché è una funzione deprecata e potenzialmente dannosa, proprio per i motivi appena visti. Essa non controlla se la stringa inserita supera o no il limite massimo. Al suo posto si fa uso di fgets, che pretende la dimensione massima, in modo da regolare lo spazio e non considerare tutto ciò che supera il limite. Inoltre si deve specificare lo stream da cui leggere la stringa, ma ne parleremo in un video a parte dove si lavorerà con la gestione dei file. Al momento useremo lo stream che riguarda la tastiera, perciò stdin. Pertanto ricapitoliamo il vettore da tre spazi, ma usiamo fgets nella quale specifichiamo nel primo campo il nome della stringa, nel secondo la dimensione del vettore e infine lo stream stdin. Come vedete nell'esempio scrivo buongiorno e lui considera solo b, con l'ultimo spazio dedicato al carattere terminatore backslash 0. Ma attenti a un dettaglio. Nella prima cella ho la lettera b, nella seconda cella ho la lettera u e infine backslash 0. Questo perché la mia stringa inserita ha superato la dimensione massima. In realtà se aumentassimo lo spazio sino a 30 e riscrivessi buongiorno, dopo l'ultimo carattere e prima di backslash 0, fgets inserisce anche l'invio a capo backslash n, perciò la new line, mentre scanf non lo fa. Ne discuteremo meglio nel video dei file e stream. Al momento sappiate che fgets interrompe l'inserimento quando si preme invio, però considerandolo a tutti gli effetti come un carattere della stringa. Se volete evitare di memorizzare il backslash n, al posto di premere invio dovete premere su Windows CTRL più Z, mentre su Linux, Unix o Mac OS CTRL più D. Questa combinazione di tasti indica l'end of file, e l'evitare di avere backslash 0 può esservi utile quando dovete manipolare la stringa o effettuare vari controlli. Altrimenti vi tocca rimpiazzare backslash n con backslash 0 manualmente. Finora nei miei video ho usato esclusivamente la libreria stdo.h e ora con le stringhe possiamo introdurre dei nuovi comandi. Abbiamo già visto getchar, fgets, scanf, putchar, puts e printf nei video relativi all'input e all'output. E ora tocca a sprintf e sscanf. sprintf è l'equivalente a printf, con la sola differenza che salva l'output in un vettore di caratteri piuttosto che stamparlo su schermo. Inoltre restituisce come printf il numero di caratteri di ciò che viene memorizzato nel vettore di caratteri. Invece sscanf è l'equivalente di scanf, ma con l'input che non arriva da tastiera, bensì da un vettore. Se quindi nella nostra stringa abbiamo due numeri e una parola, si può assegnare questi valori ad altre variabili e gestire individualmente i dati. Capisco che al momento l'idea di utilizzo sia limitata, ma pensate a gestire rubriche o altre serie di dati. Questi comandi velocizzano dei processi che in caso contrario avreste dovuto fare voi. Inauguriamo da adesso in avanti altre librerie con i loro comandi. stdlib per quanto riguarda le stringhe ha ben tre funzioni da offrirci. strtod che converte la stringa in un double, strtol che converte la stringa in un longint, e infine strtol che converte la stringa in un unsigned longint. Non provate minimamente a pensare che una stringa, aperte virgolette, un due tre, venga intesa come 123 il numero. Assolutamente no. In genere si assegnano come esercizi la creazione di queste funzioni per riuscire a comprendere il ragionamento che sta dietro. Tuttavia, analizziamo direttamente come funzionano. strtod converte una sequenza di caratteri in un valore double, e in caso non riesca alla conversione, la funzione restituisce 0. Riceve come parametri una stringa da analizzare e un puntatore a una stringa che punterà al carattere dopo la porzione convertita, così come vedete nell'esempio. strtol converte una sequenza di caratteri in un longint, e in caso non riesca la conversione, la funzione restituisce 0. Riceve come parametri la stringa da analizzare, un puntatore che punta come prima al primo carattere dopo la porzione convertita, e infine si specifica la base numerica con la quale interpretare il numero. Se si specifica 0, il dato può essere considerato come ottale, decimale o esadecimale. Diversamente se disponete di valori con una base a voi nota, potete indicare dal 2 al 32 la base al posto dello 0. Infine abbiamo strtol, che converte una sequenza di caratteri in un unsigned longint, e lavora con gli stessi parametri della funzione strtol. Quindi analizza una stringa, usa un puntatore per puntare al primo carattere dopo la porzione convertita, e si specifica la base da interpretare, così come vedete nell'esempio. Arriviamo finalmente a string.h, che è la libreria dedicata alla sola gestione delle stringhe. Iniziamo ponendo il caso di dover copiare il contenuto di un vettore o una stringa da noi definita all'interno di un vettore di destinazione. La funzione strcp, dentro la quale si specifica nella prima posizione il vettore destinazione e nella seconda il vettore sorgente o una stringa nota, così come vedete nell'esempio. In automatico viene inserito il carattere terminatore backslash 0. Anche qui si presenta il problema potenziale di superare lo spazio massimo. Per tale motivo è bene fare affidamento a strncp, dove i primi due parametri rimangono invariati, mentre il terzo indica il numero di caratteri da copiare. Quindi nell'effettivo si può scegliere di copiare anche pochi caratteri o di mettere la dimensione massima meno 1, poiché quest'ultima cella serve per backslash 0. Nel caso invece si volesse concatenare, è disponibile la funzione strcat, in cui il primo parametro è il vettore destinazione e il secondo parametro è il vettore sorgente o stringa nota. State attenti che se volete concatenare una stringa a un vettore che non contiene nulla, dovete prima inizializzarlo con le sole virgolette, perché in questo modo il computer sa che deve partire da dove si trova il backslash 0, ossia nella prima cella. Infatti spero vi ricordiate cosa era stato detto nel video dei vettori, ovvero se si inizializza un vettore di caratteri con una stringa automaticamente si aggiunge backslash 0. Perciò nel mettere solo le virgolette con nulla al loro interno, nel vettore si genera alla prima cella il carattere terminatore e la funzione strcat sa da dove deve partire con la concatenazione. Tuttavia anche qui si può superare la soglia di spazio disponibile e avere problemi. Di conseguenza esiste strncat che specifica il numero di caratteri da concatenare. Successivamente string.h ci permette di confrontare due string con strcmp. La funzione ritorna 0 se le due string sono uguali, un valore maggiore di 0 se la stringa passata come primo parametro è alfabeticamente dopo la seconda stringa e viceversa ritorna un valore minore di 0 se la prima stringa avviene prima alfabeticamente rispetto alla seconda. Sebbene in questo caso non ci siano alcuni rischi di oltrepassare la memoria dedicata, dato che è solo un confronto, esiste la possibilità di confrontare i primi n caratteri di entrambe le stringhe con strncmp. Vi riporto il caso analizzato con scanf fgets, prendendo in input da tastiera la stessa parola per entrambe le stringhe e uso strcmp. Ovviamente il programma mi segnala che non sono uguali, ciò a causa del backslash n inserito da fgets, giustamente per la macchina non sono la stessa stringa. Capita adesso il perché ha senso utilizzare strncmp e quanto si debba essere pignoli con i caratteri. Successivamente sono presenti diverse funzioni dedite alla ricerca interna delle stringhe. In questo video tratterò solo alcune di quelle più utili. La prima è strchr, la quale cerca la prima occorrenza di un carattere in una stringa. Se il carattere viene trovato, strchr restituisce un puntatore al carattere nella stringa, altrimenti restituisce null. La funzione strpbrk cerca all'interno della prima stringa presa come parametro la prima occorrenza di un qualsiasi carattere della seconda stringa passata come parametro. Nel caso venga trovato un carattere, la funzione restituisce un puntatore al carattere nel primo argomento, al contrario restituisce null. La funzione strrchr è inversa alla prima vista, ossia ricerca l'ultima occorrenza nella stringa del carattere specificato. Se il carattere viene trovato, allora la funzione restituisce un puntatore al carattere nella stringa, altrimenti viene restituito null. Per concludere, con la libreria string.h, ci sarebbero le funzioni relative alla memoria, che verranno trattate in un altro video. E infine altre due funzioni. La prima è strerror, la quale a seconda del valore intero ricevuto restituisce un messaggio di errore. I codici per gli errori sono definiti all'interno della libreria erno.h. L'ultima funzione è strln, che permette di contare il numero di carattere di una stringa escluso il terminatore backslash 0. Attenti che altri caratteri appartenenti alle sequenze di escape, come la newline backslash n, vengono considerati e quindi contati con strln. La lezione è conclusa. Se avete qualcosa da chiedere, fatelo pure nei commenti e cercherò di rispondervi. Se non siete già iscritti al canale, iscrivetevi, seguitemi su Telegram e su Instagram e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!